Sporpi Geno Game, presenta il calcio, la vera magia, passione che brucia, tra campo e tifosi, con passione calcio, siamo tutti gloriosi. Benvenuti a una puntata di Passione Calcio, apriamo la puntata parlando dell'Ascoli Calcio e ascoltiamo il commento del giornalista Valerio Rosa. Il pareggio conquistato contro il Campobasso non ha certo fermato l'emoragia in atto in questo Ascoli, un punto che cambia poco a livello di classifica, ma certamente ha fermato almeno la lunga striscia di risultati negativi, di sconfitte, che è diventato veramente molto preoccupante. Il mister Di Carlo ha conquistato il suo primo punto quando si è preso la panchina dell'Ascoli, un punto che si spera possa essere un po' di incoraggiamento in un momento di grande depressione, di grande sfiducia in tutto l'ambiente e probabilmente anche degli stessi calciatori che sono stati prima chiamati a fare due allenamenti settimanali e poi si sono chiusi in ritiro a Sant'Egidio alla Vibrata per cercare di trovare la giusta concentrazione, la giusta motivazione, la giusta determinazione per affrontare il Campobasso. In realtà al primo tempo si è visto anche un buon Ascoli, un discreto Ascoli, che ha chiuso meritatamente in vantaggio grazie anche all'Eurogoal di Augusto Bando, che ha trovato di controbalzo un tiro che si è infilato all'incrocio dei pali. Nella ripresa c'è stato un calo anche fisico, oltre che tattico, perché l'Ascola si è chiusa troppo dietro, indietreggiato troppo, senza più riuscire a punzecchiare la difesa del Campobasso, che pur non facendo nulla di straordinario ha trovato il gol ancora una volta su un calcio piazzato, dove la difesa dell'Ascoli è sembrata impreparata, anche un po' disattenta, ha lasciato solo Mantovani davanti al portiere per ribadire in rete, una disattenzione che purtroppo si sta ripetendo un po' troppo spesso. Il ritorno dei tifosi in curva nord da una parte ha riportato un po' di spinta, un po' di euforia, di incoraggiamento, dall'altro non è servito molto sul piano del risultato, come abbiamo detto il pareggio cambia pochissimo e in più si è anche creata un'altra frattura, oltre a quella con la società, anche quella con la squadra, in particolare con alcuni calciatori che sono stati bersagliati a fine partita per il loro mancato impegno, la squadra è uscita con il coro Toglietevi le Maglie, insomma le difficoltà tecniche e tattiche della squadra si aggiungono a quelle ambientali con i tifosi, con gli ultras che sono tornati, comunque mettendosi una mano sulla coscienza per il momento difficile che sta vivendo la squadra, l'hanno incoraggiata per tutti i 90 minuti senza mai rinunciare però a polemizzare con la società, con la dirigenza, con il padron Pulcinelli, con il DG Verdone, con il DS Righi che sono stati invitati ad andare via, insomma un motivo di discussione che va avanti dall'inizio della stagione e che per ora non è che stia portando a grandissimi risultati, l'unico che si vedrà saranno le multe che arriveranno per il lancio delle bombe carta, un po' troppe secondo me per giustificare il momento di protesta, è un clima decisamente negativo quello che si respira ad Ascoli in vista di una trasferta, quella di Arezzo contro una delle grandi favorite che non è partita benissimo ma che ora sta trovando la quadra e domenica pomeriggio sarà un'altra sfida decisamente difficile per i ragazzi di Mister Di Carlo. Passione talcio Proseguiamo la puntata ascoltando il commento del giornalista Alessandro Manno Passione talcio Allora ci ritroviamo a commentare un pareggio dopo 5 sconfitte consecutive, questa già è una notizia, un pareggio che si presta a diverse interpretazioni, chi dice che sono due punti persi, chi dice che comunque considerando il momento un punto può essere anche un buon risultato, io la penso che per quello che si è visto in campo il pareggio è il risultato più giusto alla luce anche di tutta la questione ambientale che si sta vivendo in Ascoli, della situazione psicologica dei giocatori ma anche di una condizione fisica non dico precaria ma quasi perché comunque la squadra ricordiamoci ha fatto una preparazione al Picchio Village a differenza delle altre squadre che preparano tutte le loro stagioni in altura, per cui secondo me questo è lo scotto da pagare e una delle motivazioni per le quali la squadra dura un tot di minuti poi dopo nel secondo tempo inevitabilmente cala. Devo dire che mi è piaciuto molto il gol di Bando perché ha fatto un gran tiro sotto l'incrocio, Silipo è stato uno dei migliori, ha sfiorato il 2-0 nella ripresa, purtroppo abbiamo preso il gol con la solita distrazione difensiva, un campo basso che ha fatto diciamo due tiri in porta, e quindi niente, io mi auguro, considerando che il campo basso è in piena zona playoff, aveva 10 punti più dell'Ascoli, io mi prendo questo punto, che sia un punto di ripartenza, il mister anche ieri ha provato a cambiare appunto con l'innesto dal primo minuto di Silipo, sta provando un po' tutte le soluzioni, diciamo che bisogna anche cambiare l'ottica di quale sia l'obiettivo dell'Ascoli, che a questo punto deve essere la salvezza, per cui vedere un punto contro il campo basso in piena zona playoff, che veniva da una serie di risultati utili consecutivi, vedendola in ottica salvezza, il punto è buono. Io sono dell'idea che questa squadra, non voglio essere ripetitivo, ma ha bisogno di tempo per accrescere la condizione, ma anche per essere un po' più sicura dei propri mezzi, perché sicuramente non sarà una squadra da primi posti, è evidente, siamo una squadra incompleta, da special centrocampo, però è una squadra che secondo me, per l'organico che ha, non merita il terzo ultimo posto. Quindi io sono fiducioso, spero che Di Carlo piano piano riesca ad ingranare, certo ci aspetta una trasferta difficile in quel di Arezzo, però ecco, speriamo che questo punto sia la ripartenza, una piccola ripartenza verso, diciamo, risultati un po' più importanti. Prociamo la puntata ascoltando il giornalista e direttore di Sport e Piceno, Gabriele Brandozzi. Dopo cinque sconfitte consecutive, un incredibile record negativo a cui non siamo certamente abituati, ci si aspettava molto di più dalla formazione bianconera contro l'undici molisano del Campopasso. Dopo una prima mezz'ora sufficiente, illuminata dalla prudezza del giovane bando, una delle poche note positive della serata, anzi, dobbiamo dire, è l'unica cosa positiva della serata e di questo periodo, il gioco, così si può chiamare, dell'Ascoli si è involuto finché non è giunto il pari dell'undici di Braglia con Mondonico. È un periodo estremamente delicato, i tifosi rumoreggiano, polemizzano, ce l'hanno con la società, con i giocatori e questo anche in virtù del passato, memori dei fasti trascorsi della formazione bianconera del suo obblasone, certamente i tifosi vogliono di più, ma molto, molto di più. E speriamo che la cosa avvenga, già a partire da domenica prossima nella trasferta toscana di Arezzo. Ma l'Ascoli deve destarsi da questo torpore, deve mettere in campo il gioco, che fin qui non c'è, deve mettere in campo lo spirito di sacrificio, il temperamento, il carattere, il cuore. Altrimenti si rischia di scivolare sempre più in basso, è già difficile andare più in basso di com'è posizionata ora, ma soprattutto occorre riscattarsi, perché l'Ascoli ha una storia, una gran bella storia, e vederla così relegata nelle ultime posizioni, addirittura della Serie C, certamente non fa bene. Speriamo, come dicevo, che ad Arezzo ci sia tutt'altra storia, ma certo, per quello che abbiamo visto finora, sarà anche una impresa improvabile. Passione d'alcio Speriamo la puntata parlando del calcio femminile eccellenza Marche e della terza giornata di campionato disputata dalla San Benedettese Calcio con il servizio di Chiara Poli. Passione d'alcio San Benedettese femminile che esce sconfitta per tre reti a due sul trato del Dorico di Ancona nella seconda giornata del campionato di eccellenza femminile delle Marche. Rosso-Blu in doppio vantaggio con una posizione di Poli nel primo tempo che si infila sotto la traversa e poi con un pallonetto di Ponzini all'inizio ripresa. Tante, troppe le occasioni sciupate dalle Rosso-Blu e locali che non mollano, anzi, rimpolpano l'attacco con l'Isica cambio azzeccato perché grazie alla sua doppietta pareggiano e poi ribaltano il match. Da rivedere sicuramente alcune situazioni tattiche e meccanismi in fase di non possesso. Ora le ragazze di Mister Pompei si preparano al prossimo delicato match contro la Maceratese. Appuntamento allo stadio Petrella di Ripatranzone domenica 27 ottobre alle ore 15. La puntata di Passione di Calcio termine qui vi appuntamento alla prossima puntata. Se vi è piaciuta mettete un like se pensate che dobbiamo proseguire mettete un like e seguiteci sui nostri social. Sparpice no game ha presentato il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione e calcio siamo tutti curiosi a